Tutto un cantiere, continuano a costruire, ci sono costruzioni dovunque. E' incredibile che tutti i negozietti che c'erano 15 anni fa di elettronica sono spariti. Vendevano autoradio, vendevano macchine fotografiche, telecamere, non c'è più niente. Perché prima c'era convenienza, quindi c'era gente che veniva qua apposta, a Livigno, comprava macchine fotografiche, telecamere, obiettivi eccetera, poi faceva il pieno di benzina e tornava a casa. O anche l'autoradio, che andavano tanto di moda qualche anno fa, quelle estraibili. Adesso non c'è più niente.